si è riformata. Qual è la sua visione di quello che è avvenuto ieri nel Consiglio dei Ministri? Io apprezzo il lavoro che ha fatto la Ministra Cartavia, che si è molto impegnata, però devo dire la verità che io non canterei vittoria, perché siamo ritornati a quella che è un'anomalia italiana, che era nel passato un'anomalia e ancora nel futuro si prospetterà come un'anomalia. Cioè noi rispetto al resto dell'Europa stiamo dicendo che se un giudizio di appello durerà due giorni e un anno, se un giudizio di Cassazione durerà un anno e un giorno, il processo svanirà nell'urla. Non può essere una vittoria dello Stato di diritto, perché lo Stato di diritto fa rispettare la legge e rispetta anche offre giustizia alle vittime del reato.